buonasera gentili amici ed amiche della lega calcio 8 un caloroso saluto che vi giunge da ostia dalla lungarina dove per la diciottesima giornata della regular season della serie della lega calcio 8 si affrontano questa sera il mister jeff e il professione casa e pistone può andare abbattuta verso la porta di scarsella va pistone col destro la mette in mezzo e c'è il vantaggio del professione casa sugli sviluppi del calcio di munizione battuto in mezzo da pistone è arrivato il calciatore in maglia numero 7 barrese che di testa non ha lasciato scampo a scarsella uscendo in presa bassa attenzione ora francucci alza un pallone in mezzo a cercare d'avello attenzione il pallone rimane là clamoroso l'intervento difensivo dei calciatori del professione casa attenzione anche attenzione il raddoppio a il raddoppio del professione casa sugli sviluppi del calcio d'angolo la battuta rapida di barrese ed è intervenuto sotto misura un calciatore della formazione del presidente forgione che non ha lasciato scampo scusate a scarsella freddato poi il pallone viene aperto su tonetto in posizione di alla che la gioca su pizzuti di testa il pallone rimane lì e c'è il gol di andrea d'avello sull'uscita incerta di quattro occhi d'avello a pochi metri dalla linea di porta riesce col piattone a ribadire in rete il direttore di gara che fischia allora d'avello che va la battuta diretta e poi si immola un difensore del professione casa pizzuti lascia a tonetto tonetto la mette in mezzo tesa e c'è il gol direttamente dal calcio d'angolo di max tonetto che approfitta anche forse di un'incertezza di quattro occhi e riesce a freddarlo andando a calciare direttamente quindi dall'esecuzione del tiro d'angolo per la chiusura della difesa del professione casa il pallone ancora giocato su davello c'è un rimpallo davello col destro calcio di rigore forse c'è sì un calcio di rigore molto importante della partita va davello col mancino e la parata di quattro occhi con il piede alza sopra la traversa e poi il pallone termina in calcio d'angolo il primo tempo sul 2 a 2 al doppio vantaggio del della formazione ospita sorpresa ha risposto il mister jeff con due reti nella seconda parte di primo tempo attenzione olivieri francucci pensa anche la conclusione la mette in mezzo e cerconi libera ancora francucci ha preso la destra per il mister jeff che attacca tonetto col destro alza la palla e poi morosini traversa la palla rimane là ancora quattro occhi e poi c'è il gol e il gol di davello sulla ribattuta prima della traversa e poi di quattro occhi da terra davello riesce a depositare il pallone in fondo al sacco riscattandosi dall'errore del dischi dal dischietto e porta in vantaggio il mister jeff dall'altra parte fa ripartire l'azione vediamo che si tocca ancora una spalla l'estrema difensore ora si lamenta l'errore in uscita attenzione morosini per il destro di pizzuti che trova il gol del 4 a 2 al diciannovesimo minuto della ripresa non si lamentava in vano quattro occhi sull'errore in uscita del professione casa va barrese dall'angolo mette in mezzo scarsella coi pugni e finisce così con la respinta coi pugni di scarsella alla longarina il mister jeff vince per 4 a 2 sul professione casa e dalla longarina è tutto ma era una partita che sulla carta poteva sembrare molto facile visto che loro erano penultimi in classifica però siamo partiti con l'handicap abbiamo preso due tiri e due go dopo 10 minuti e la partita si è messa tutta in salita però abbiamo continuato a giocare tranquillamente abbiamo fatto la nostra partita e abbiamo vinto meridatamente e nettamente perché abbiamo creato almeno 15 palle go senza nessun problema